Voglio raccontarvi di un avvenimento reale, un avvenimento reale che è scritto nella Bibbia, non ve lo leggerò, se volete trovarlo nella vostra Bibbia lo trovate nei Vangeli, potete richiedere credo una Bibbia in fondo, nel foyer in fondo, insieme ad altre pubblicazioni completamente gratuite. Una storia che ci parla di nuovo inizio, il tema di questa sera è ricominciamo, dicevamo 4 gennaio 2019, è iniziato il nuovo anno, si fa il bilancio del vecchio anno, fallimenti, delusioni, anche qualche vittoria. Ma se vi chiedessi di alzare la mano, ciascuno di voi mi direbbe, sì io ho avuto tanti fallimenti, 4 gennaio 2019, cominciamo un nuovo anno, cominciamo o ricominciamo? Perché c'è un modo per non far sì che l'anno cominci uguale a quello dell'anno scorso, c'è un modo perché quest'anno possa ricominciare, azzera completamente tutto quello che è successo, azzera completamente tutti i tuoi fallimenti, azzera completamente i tuoi pensieri e fai partire qualcosa di nuovo. Nei Vangeli ha scritto che c'era una donna che era malata non da un anno, non da due anni, non da cinque anni, da dodici anni, anno dopo anno lei cominciava di nuovo. Aveva una malattia molto particolare, una malattia che la debilitava fisicamente, la debilitava spiritualmente e la debilitava economicamente. Fisicamente perché questa malattia riguardava una perdita di sangue continua, non si arrestava, economicamente perché ci dicono i Vangeli, ci dice la Bibbia che aveva speso tutto quello che aveva e aggiunge un particolare la Bibbia, aveva speso tutto quello che aveva ma non aveva potuto essere guarita. Debilitata spiritualmente, una malattia del genere all'epoca, in un contesto religioso come era quello in cui viveva, questa donna era ai margini della società. Ora io non so tu come ti senti questa sera, io personalmente mi sono sentito nell'anno passato ai margini della società, mi sono sentito un reietto, mi sono sentito rifiutato. Non lo so se tu ti ritrovi in questo, probabilmente di nuovo se vi chiedessi di alzare la mano ci sarebbero tantissime mani alzate, ma questa sera andando avanti con questa storia vi voglio rivelare qualcosa che per molti è qualcosa di conosciuto immagino, per altri potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo. Ti chiedo in questi pochissimi minuti di prestare la massima attenzione perché quello che ascolterai, fai finta che non ci sia io che parlo, oltretutto la mia voce non è neanche così tanto bella da ascoltare, ma quello che ascolterai potrebbe stravolgere la tua vita perché proviene direttamente dall'ospite speciale di questa serata, Gesù, il nostro Dio. E dice la Bibbia che questa donna appunto anno dopo anno continuava a soffrire di questa malattia finché un giorno sente parlare di Gesù, sente dire che Gesù sta passando. Gesù passava per tutt'altro motivo, non aveva intenzione di andare da questa donna, addirittura lui passa, lei da lontano si fa forza, si fa coraggio, non innalza neanche la voce, ma nella sua mente dice se io riesco solo a toccare un lembo del suo mantello, della sua veste, io di certo sarò guarita. Ora, ritornando al discorso di prima, questa donna era considerata impura, chiunque venisse a contatto con lei sarebbe diventato impuro, a sua volta avrebbe poi dovuto seguire determinati passaggi di purificazione. Insomma, questa donna fa appello a tutte le sue forze, immaginatevi, una perdita di sangue continua, non so voi ma io anche solo quando faccio l'analisi del sangue ho bisogno di stare sdraiato per almeno un quarto d'ora perché sono senza forze, mi direte pesi 40 kg bagnato, è asciutto, quindi ci sta anche. Però immaginatevi una perdita di sangue continua che non finisce mai. Questa donna dice la Bibbia che si fa strada nella folla, c'era una folla intorno alla Bibbia, non ci dice quanti, sicuramente centinaia di persone che stringevano Gesù. Immaginatevi uno dei cortei dei regali di oggi, dei regali intendo persone reali, dei re e delle regine. Immaginatevi un corteo del genere riuscire ad entrarci, riuscire a farsi largo. Questa donna fa appello a tutte le sue forze perché sa che Gesù può farla ricominciare. Io mi immagino, la scena, a me piace immaginarmele quando leggo la Bibbia, mi piace immaginarmi le scene che leggo, immagino questa donna che fa a gomitate per riuscire a passare, magari cade perché non ha le forze, però lei è convinta che appena riuscirà a toccare il lembo, neanche Gesù, il lembo della veste di Gesù sarà guarita. Non si preoccupa di renderlo impuro al contatto perché lei sa che in Gesù c'è qualcosa di speciale e ci riesce. Io non so qual è la folla che è davanti a te, non so se è una delusione amorosa, non lo so se è un lavoro che non trovi, non lo so se è un fallimento particolare, so che cos'è che ha portato quella folla davanti a te. La Bibbia ci dice che tutti, tutti quanti noi siamo separati da Dio, nessuno di noi, nessuno escluso, nessuno di noi può dire di essere vicino a Dio, ma c'è un modo per poter risolvere questa situazione, risolvendo la situazione di separazione da Dio tu risolvi tutti i tuoi problemi. E c'è un modo, fatti largo tra la folla, sgomita, sgomita, scalcia via tutti i tuoi disagi, scalcia via, non vi piacerà quello che sto per dire, la parola che sto per dire, scalcia via il peccato che è lui che ti tiene separato da Dio. Sgomita, striscia, se necessario fai ancora più forza, vai a toccare il lembo di Gesù. Se solo tocco il suo mantello sarò guarita. Se solo tu, adesso, in questo momento, non pensare che non sia la serata adatta, abbiamo scherzato, ci piace scherzare, siamo una famiglia, ci piace scherzare, ci piace stare insieme, ma ci piace ricordare che il nostro papà ama essere toccato, invocato, lodato da noi. Quindi, non pensare che non sia la serata giusta. In questo momento vai a toccare Gesù. E appena tu toccherai Gesù, Gesù non ti dirà che cosa hai fatto. Gesù ti dirà, figlio. Dice la Bibbia, e cito adesso, Gesù disse, qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me. Allora, la donna, vi risparmio tutti i dettagli, vi invito davvero a richiedere una Bibbia per poterli leggere, Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo aveva toccato Gesù e come era stata guarita all'istante. E Gesù non le dice, figlia, ti ho guarito. La guarigione era già avvenuta, ma Gesù non si ferma lì. Quando Gesù vede la fede in te, quando Gesù vede che tu lo stai cercando con tutto il tuo cuore, con tutta la tua volontà, non si ferma la tua guarigione. Gesù in questo momento ti può guarire, da qualsiasi malattia, da qualsiasi problema tu abbia, Gesù ti può guarire e liberare, ma Gesù non si ferma lì. Egli disse alla donna, figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace. Che cos'è la fede? La Bibbia ci dice che la fede è la completa certezza che quello che si spera si realizzerà. In cosa stai sperando? Stai sperando che Gesù ti liberi? Stasera, se tu continui a sperare, a credere, ad aspettare, Gesù ti può liberare. Anche ora, in questo preciso istante. La fede è la piena fiducia in cose che non si vedono. Ho finito. Avevo detto che sarei stato breve. Voglio soltanto... E questa volta lo cito testualmente. Possiamo farlo al protagonista della serata, l'applauso? Mentre intanto invito Luca Durante che ci canterà un bellissimo brano per il quale davvero non ci eravamo messi d'accordo Facciamo anche un applauso a Luca Durante Canterà appunto il brano nella sua presenza che è dedicato a chi in questo momento è presente Sì, intanto mi sposto Vi lascio con un verso della Bibbia Se Gesù questa sera ti ha toccato, fai tu queste parole Non ricordate più le cose passate Non pensate più alle cose antiche Ecco, è Dio che parla Faccio una cosa nuova Proprio ora Germoglia, germoglia Non ve ne accorgete Non stai vedendo che Dio sta facendo germogliare un'opera dentro di te? Ecco, lui sta aprendo una strada nel deserto della tua vita Stai mettendo un fiume nella tua steppa Questa sera fai diventare Gesù non solo il protagonista di questa serata Ma il protagonista della tua vita Questa è un'opera di questa serata sei da la tua vita Questa fare è un'opera di questa serata che non solo il protagonista di questo tema è un'opera della tua vita